Amici di Football is My Life, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi sono qua per fare una presentazione dei mondiali 2018. Mondiali che, come tutti sapete, inizieranno domani e ai quali, purtroppo, la nostra Italia non parteciperà, essendo stata eliminata dalla Svezia negli Sparigi. Allora, in questo video farò un po' una presentazione dei gironi, dicendo quali sono, a mio modo di vedere, le squadre favorite e quali possono essere le squadre rivelazione di questo torneo. Iniziamo subito e buona visione! Girone A, Russia, Uruguay, Egitto, Arabia Saudita. Poteva andare peggio ai padroni di casa, che non capitano in un girone propriamente impossibile. Certo, la loro rosa non promette grandissimi sogni, Però, comunque, l'entusiasmo del giocare il mondiale in casa può dar loro una spinta per potersi giocare la qualificazione agli ottavi di finale. La squadra leggermente favorita per passare il turno è l'Uruguay. Uruguay, che è la squadra che ha più curriculum di questo girone, avendo vinto due mondiali e 15 Coppe America. È la squadra sulla carta più forte che, in attacco, ha due giocatori davvero formidabili, due dei migliori attaccanti del mondo, quali Luis Suarez e Cavani. Poi troviamo l'Egitto. Egitto, che non è una squadra da sottovalutare, una delle squadre africane più forti che, qualora dovesse vincere il girone, a mio modo di vedere, si candida come una delle possibili rivelazioni di questo mondiale. Il giocatore da tenere maggiormente d'occhio è sicuramente Momo Salah, che, dopo un'ottima esperienza con la maglia della Roma, si è trasferito al Liverpool, dove ha disputato una stagione a dir poco strepitosa, risultando il capo cannoniere della Premier League. L'ultima squadra del girone è l'Arabia Saudita, sicuramente la più debole di questo gruppo, che è un po' l'avversario cuscinetto e che, oggettivamente, ha ben poche possibilità di passare il turno. Girone B. Portogallo, Spagna, Marocco, Iran. Allora, questo qua è uno dei gironi sulla carta più scontati, perché troviamo il Portogallo, campione in carica, una squadra sulla carta valida. Magari non è una delle principali candidate a vincere il mondiale, però comunque può fare bella figura. Il giocatore leader di questa squadra è sicuramente Cristiano Ronaldo. Poi troviamo la Spagna, Spagna che è in cerca di riscatto dopo le parentesi negative del Mondiale 2014 e dell'Europeo 2016, soprattutto del Mondiale, e ha tutte le carte per rifarsi e anche per vincere questo Mondiale, perché è una squadra con tantissimi giocatori forti in ogni reparto. Inoltre troviamo anche un bel mix tra esperti e giovani, giocatori che sono fortissimi e hanno vinto tanto a livello nazionale e internazionale. Penso, per esempio, a Iniesta e a Sergio Ramos e giocatori giovani che comunque hanno vinto tanto, che però comunque hanno già esperienza a livello europeo e quindi hanno già acquistato la mentalità. E questo può permettere alle Furie Rosse non solo di vincere e di far bene in questo torneo, ma di mantenersi su alti livelli per molti, molti anni. Dopo c'è il Marocco. Marocco che è una squadra rognosa, non è una delle squadre più scarse, non è la squadra più scarsa di questo girone. E essendo un avversario difficile può anche togliere punti a Portogallo e Spagna. Dei giocatori validi ci sono, basti pensare a Medì, Benatia e poi al trequartista Ziyech dell'Ajax. E infine troviamo l'Iran. Iran che è la squadra più debole di questo girone e che obiettivamente non le vedo tantissime possibilità, anzi quasi nessuna, di poter passare il turno. Girone C. Francia, Danimarca, Peru, Australia. Beh, direi che per la Francia è andata bene, ha sulla carta un girone sicuramente abbordabile. I Bleu sono i favoriti a vincere questo girone, sono una squadra forte soprattutto a centrocampo ed in attacco. Basti pensare che hanno giocatori come Kanté, Pogba, Tolisso, Dembélé, Griezmann, Mbappé. Quindi la rosa parla per loro. Dopo abbiamo le altre tre squadre che se la giocano un po' per passare il turno come seconda. La Danimarca, il Peru e l'Australia. La Danimarca che ha nella sua squadra come top player Ericsson, il centrocampista del Tottenham. Poi abbiamo il Peru, una squadra che a me oggettivamente sta simpatica e sono contento di vederla in questo mondiale. Il loro top player è sicuramente Guerrero e mi farebbe davvero piacere se passassero agli ottavi di finale. E infine c'è l'Australia. Australia che è la squadra più debole di questo girone. Una squadra con giocatori sicuramente non proprio giovanissimi. Basta pensare che in avanti gioca ancora Kail che ha quasi 40 anni. Non ha moltissime possibilità a mio modo di vedere di passare il turno però comunque se la può giocare. Dopo la Francia comunque in questo girone per passare il turno metto in ordine Danimarca, Peru ed Australia. Però non ne sarai sorpreso se passasse una tra Peru ed Australia al posto degli scandinavi. Girone D. Argentina, Croazia, Islanda, Nigeria. Argentina che come al solito si è qualificata tirandosi il collo come una gallina. Passa sempre il turno per il rotto della cuffia. Ad ogni modo è la squadra favorita per vincere questo girone. Una squadra che in attacco è veramente fortissima, piena di ottimi giocatori come Aguero, Higuain, ma soprattutto Lionel Messi. Solo che a parte l'attacco non si sa bene cosa fa questa squadra perché il centrocampo e la difesa non sono di certo stellari. I giocatori non riesci bene ad amalgamarli, non c'è una vera e propria idea di gioco però nonostante questo secondo me possono anche essere considerate una delle favorite per vincere il mondiale. Io non credo che facciano benissimo però comunque sulla carta sono sicuramente un'ottima squadra. Poi troviamo la Croazia. Croazia che è una squadra con tanto talento, basti pensare a giocatori come Modric, Rakitic, Perisic, Mandzukic che in questo girone parte come seconda dopo l'Argentina. Ad ogni modo io starei attento a questa squadra perché può essere anche lei una sorta di mina vagante della competizione. Dopo troviamo l'Islanda, la simpatica Islanda che dopo l'ottima figura agli europei del 2016 ci reproverà ai mondiali. Ce la farà anche questa volta? Non lo so, vedremo. Io sarei contento se passasse il turno agli ottavi di finale. E infine troviamo la Nigeria. Nigeria che affronta ancora una volta l'Argentina. Argentina, Nigeria è il classico dei mondiali ai gironi però vabbè, a parte queste puttanate, non vedo la compagine africana come una delle squadre più temibili di questo girone. E onestamente non le vedo grandissime possibilità di poter passare il turno. Girone E. Brasile, Svizzera, Serbia, Costa Rica. Il Brasile è una delle squadre favorite a vincere questo mondiale e non possiamo non considerarla come la favorita a vincere questo girone. Sulla carta non è forte come il Brasile dei primi anni 2000, quello con Kakà, Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho. Però comunque è un'ottima squadra, superiore agli ultimi Brasili che abbiamo visto nelle ultime competizioni. Una squadra forte in ogni reparto. In difesa troviamo un bel mix tra giocatori giovani e giocatori esperti come Marchinhos, Thiago Silva, Miranda, Marcelo. A centrocampo la squadra è abbastanza compatta con Fernandinho e Casemiro. Mentre in attacco troviamo ottimi giocatori come la Stella Neymar, Coutinho, Douglas Costa e poi i moderni attaccanti Gabriel, Jesus e Firmino. Poi per il secondo posto qua secondo me se la giocano la Svizzera e la Serbia. La Svizzera che è una squadra che ai mondiali c'è sempre stata, ha dei buoni giocatori sulla carta come Lieksteiner, Rodriguez, Shaka, Zemaili, Shakiri, Embalo. Che però se la giocherà con la Serbia. Serbia che qualora passasse il turno sarebbe considerata come una delle squadre rivelazioni di questo torneo. E secondo me le capacità per poter passare il turno ce le ha tutte. Il giocatore chiave è sicuramente Milinkovic Savic, oggetto del desiderio dei più grandi club europei. Ma oltre a lui ci sono altri giocatori importanti. Basti pensare a Nastasic, al capitano Kolarov, a Ljajic, a Mitrovic. E infine troviamo la Costa Rica. Costa Rica che partecipa ai mondiali per la seconda volta consecutiva dopo l'esperienza del mondiale 2014, dove è riuscita a vincere un girone complicato con Uruguay, Italia e Inghilterra. Tre squadre che in quel momento non è che stessero propriamente bene, che però sulla carta avevano e hanno un organico superiore a quello della Costa Rica, oltre che ad avere un palmarès sicuramente più ampio del loro. Vedremo un po' se riusciranno in questa competizione a ripetere il miracolo dell'ultimo mondiale, dove si sono fermati ai quarti di finale. Io la vedo dura, però mai dire mai. Girone F. Germania, Messico, Svezia, Corriere del Sud. La Germania è la squadra sicuramente favorita per vincere questo girone, ed è anche una delle squadre favorite per vincere il mondiale. Una squadra sulla carta veramente fortissima, completa in ogni reparto. Basti pensare che in difesa troviamo gente come Hummels, Jerome Boateng a centrocampo. Tanto per dirne qualcuno, abbiamo Kroos, Kedira, Ozil, in attacco abbiamo Draxler, Müller e il giovane Timo Werner. Quindi veramente una squadra molto molto forte che ha giocatori di esperienza, ma anche un ottimo vivaio. Aspetto che gli permetterà di mantenersi su alti livelli per molti molti anni. Mi ha un po' sorpreso l'esclusione di Mané del Manchester City, però comunque è un ragazzo giovane e voglio pensare che per lui ci saranno altre occasioni con la maglia della nazionale ai mondiali e gli europei. E quindi non è una cosa così tanto, neanche così tanto grave. Poi troviamo il Messico. Messico che è un po' una presenza fissa dei mondiali, una squadra non più giovanissima sulla carta, però comunque esperta e che secondo me ha delle possibilità di poter passare agli ottavi di finale. Il giocatore più significativo è senza dubbio il Cicciarito Hernandez. Altri validi giocatori sono Giovanni Dos Santos e Carlos Vela. Poi troviamo la Svezia. Svezia che ci ha eliminato negandoci la possibilità di poter andare ai mondiali. Quando l'ho vista non mi è sembrata una squadra stellare, non mi è impressionato, però comunque è una squadra forte fisicamente che può rivelarsi un osso duro da masticare per le rivali di questo gruppo. E infine troviamo la Corea del Sud. Corea del Sud che sinceramente è una squadra che non conosco, l'unico che conosco è Son del Tottenham, però comunque non mi sembra una rosa così tanto apprezzata da poter far così tanto bene in questo mondiale ed impensierire le favorite per poter passare il turno. Anche se comunque, come per tutte, qualche possibilità ce l'ha. Girone G. Belgio, Inghilterra, Tunisia, Panama. Allora questo qua è un girone che si può tagliare in due, diciamo così, perché ci sono due squadre nettamente favorite per passare il turno. Il Belgio e l'Inghilterra. Il Belgio che è una squadra che ha sempre tanti talenti, basti pensare a gente come Dembélé, De Bruyne, Ferreira Carrasco, Eden Hazard, Mertens, Lukaku e poi troviamo l'Inghilterra. Inghilterra che quest'anno se ne parla poco, una squadra che comunque del talento ce l'ha, basti pensare a giocatori come Dyer, Delle Alli, Harry Kane che è stato uno degli attaccanti più prolifici della Premier League. Personalmente non credo che l'Inghilterra sia una delle candidate a vincere il Mondiale, però differentemente dalle altre volte c'è una differenza. Perché? Le altre volte si facevano tanti proclami sull'Inghilterra come se dovesse vincere il Mondiale, questa volta non se ne fa nessuno e vuoi vedere che loro zitti zitti quatti quatti arrivano a giocarsela fino alla fine. Infine poi troviamo Tunisia e Panama. Tunisia una squadra sicuramente mediocre che comunque qualche comparsa ai mondiali l'ha già fatta e poi troviamo Panama. Panama ha la sua prima comparsa in questi mondiali, che ha i mondiali di calcio in generale, una squadra che vedo che sta già riscuotendo diverse simpatie, perché una squadra un po' ignorante, francamente come per la Tunisia, non le vedo quasi nessuna possibilità di poter passare il turno, poi magari alla fine lo passa e ci sarà da ridere. Girone H. Colombia, Polonia, Giappone, Senegal. Girone sulla carta più bello e più equilibrato. Girone dal quale può uscire la squadra rivelazione di questo mondiale. Allora, la Colombia è una squadra sicuramente valida, a me personalmente non attira più come qualche edizione fa, però comunque è innegabile che giocatori validi del calibro di James Rodriguez, Quadrado, Muriel, Bacca, Falcao ci siano, e quindi le possibilità per passare il turno ci sono tutte. Poi c'è la Polonia, la Polonia che ha disputato un ottimo europeo a Francia 2016, una squadra sulla carta, secondo me, abbastanza valida, che ha in difesa Piszczek come uomo migliore. A centrocampo troviamo poi Krejković, ma in attacco soprattutto troviamo uno dei migliori centravanti del mondo, Robert Lewandowski. Poi troviamo il Giappone, che è secondo me la squadra più scarsa di questo girone, è una presenza fissa ai mondiali, non fa mai un cazzo, però la trovi sempre in mezzo alle palle. È un girone equilibrato, quindi parte secondo me qualche metro indietro rispetto alle altre tre, però se la può giocare per poter passare il turno. E infine troviamo il Senegal, Senegal che tra le squadre africane è una delle più attrezzate, basti pensare che troviamo giocatori come Koulibaly in difesa e poi in attacco gente come Keita Balde, Niang e Mané del Liverpool. Insomma, questo qua è il girone che più mi affascina, quello più interessante, dove può uscire una delle squadre rivelazioni di questo mondiale. Va bene ragazzi, queste erano le mie opinioni sui gironi dei mondiali, fatemi sapere come la pensate, ditemi secondo voi quali sono le squadre favorite a vincere i gironi, a vincere i mondiali e quali possono essere le sorprese di questa competizione. Per oggi è tutto, io come al solito mi invito a iscrivervi al canale YouTube, a iscrivervi alla pagina Facebook, a lasciare un commento, a lasciare un mi piace, a pazzare per i vari canali di YouTube Football Project, trovate tutti in descrizione. Detto questo vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!